Il sangue a volte mi fa inervosire, altre volte mi aiuta a controllare il caos. Apri gli occhi e guarda! Guarda che cosa hai fatto! Ti prego, devi capire! Fidati, ti capisco perfettamente, ma ai bambini non potrei mai farlo. Non sono come te. Perché? Io ho un codice. Sei della polizia anche tu? Sono della scientifica. Hanno trovato un'altra prostituta? No. È la terza in cinque mesi. È la cosa più strana che abbia mai visto. Neanche una goccia di sangue. Tu c'entri qualcosa. Non so come, ma prima o poi lo scoprirò e riuscirò a farti il culo, Dexter. Mi daresti il fascicolo di un vecchio caso, mia? Ma certo, quale? Quello della scena del crimine dove Harry mi trova. Qui gli ovo c'è gente che fa delle cose veramente terribili. Devi imparare a riconoscerle. Io posso insegnartelo. Che c'è il tuo rapporto che Harry non voleva che vedesse? Eri lì da giorni, affamato, in un lago di sangue. Mi fai venire i brividi, lo sai, vero? Sì, lo so. Mi dispiace molto. Avevo rispettato il codice di Harry. Mio padre adottivo. Com'è andato il tuo appuntamento con Rita? Nalla grande. Io voglio... Una vita normale, lo so. Già, una vita normale.